Franco Veiseli una doppietta, primo gol su rigore, secondo una gran punizione che però non è bastata. Cos'è mancato oggi al Bragno per far punti? Oggi sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, purtroppo viziato dagli episodi, abbiamo sbagliato tanto noi, loro anche hanno sbagliato, però come ho detto prima viziato dagli episodi, quindi secondo me non voglio attaccarmi alle scelte arbitrali, però siamo stati un po', come dire, ci ha dato anche un po' contro questa cosa qua. E quindi poi il risultato è qualche, abbiamo giocato per quasi tutto il secondo tempo in 10, per poi finire in 9. Secondo me c'è ancora tanta strada da fare, dobbiamo essere più uniti, più coesi e vediamo un po' come va. L'anno scorso è la veloce, come ti trovi nel Bragno e in questa categoria? No, mi trovo molto bene con i compagni, anche con tutta la dirigenza, con la nuova squadra, la categoria non è un problema, mi trovo assolutamente bene, i ritmi sono diversi naturalmente, però è giusto che si adattino tutti velocemente, soprattutto i giovani. Grazie.